Quindi il 25 è giusto sfilare, è giusto ricordare, è giusto festeggiare. La lotta alla mafia si fa ogni giorno, io la faccio da quando sono nato. Già il 25 aprile non è un giorno come gli altri e per ricordarlo il presidente della Camera, Roberto Fico, ha scelto un posto che non è come gli altri. Sant'Anna di Stazzema, arroccata sulle montagne della Versilia, dove il 12 agosto del 1944 un esercito tedesco ormai in ritirata aiutato dalle guide fasciste compì una delle peggiori stragi della nostra storia. Noi dobbiamo ricordarci che la nostra Costituzione, la nostra Repubblica si fonda sull'antifascismo, si fonda sulle libertà individuali, sulla libertà di pensiero, sul pluralismo delle informazioni, si fonda su tutto ciò che oggi noi abbiamo e possiamo vivere in questo modo e quindi lo dobbiamo in ogni modo difendere. Una presa di posizione che risponde a distanza a quella del ministro dell'interno Matteo Salvini che non festeggerà la ricorrenza della liberazione. Va festeggiata, va ricordata e non sono certo delle sfilate di passarella quelle che si fanno il 25. La terza carica dello Stato arriva in tarda mattinata e accompagnato dal sindaco di Stazzema ne ripercorre l'eccidio. Qua c'erano piazzate le mitragliatrici, sulla porta della chiesa c'era il parroco che offrì la sua vita per salvare questi 132 che erano stati rastrellati e portati qua. E poi il momento più iconico, quello più rappresentativo, cioè la deposizione della corona di Alloro qui all'ossario di Sant'Anna di Stazzema, dove si ricorda quella terribile notte dove morirono centinaia di persone e oltre 100 bambini. Un momento e un luogo che secondo il presidente della Camera deve diventare patrimonio di tutto il paese. Quello è il dovere e il ricordo della resistenza. Negata per anni, tenere viva la memoria della tragedia di Sant'Anna diventa ora un dovere civile e un impegno dello Stato. L'altro ieri con l'ufficio di presidenza ho dato mandato di completare tutte le procedure di desegretazione degli atti delle commissioni che ancora sono desegretate. Tra queste commissioni ho dato mandato di chiudere definitivamente il processo di desegretazione e di diversamento degli atti della commissione di inchiesta nazifascista.